Per la tua casa vuoi sicurezza e comfort? Nel nostro showroom trovi serramenti efficienti e consulenza specializzata. Ti aspettiamo in via 13 Martiri 106 a Sandona di Piave. Bentrovati al meteo. Primo maggio con tempo instabile torna infatti la pioggia portata da una perturbazione atlantica. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto inizialmente avremo qualche parentesi asciutta poi col passare delle ore nuvolosità in aumento, rovesci dal pomeriggio un po' ovunque anche intensi. Temperature in lieve calo, minime tra 11 e 14 gradi, massime tra 20 e 23 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso al mattino più sole poi dalle ore pomeridiane molte nubi e precipitazioni via via più diffuse. Temperature minime sui 13-14 gradi, massime intorno ai 21-23 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige dove non mancheranno tratti soleggiati poi graduale aumento della probabilità di precipitazioni. Temperature minime sugli 11-12 gradi, massime intorno ai 24. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Per la tua casa vuoi sicurezza e comfort? Nel nostro showroom trovi serramenti efficienti e consulenza specializzata. Ti aspettiamo in via 13 Martiri 106 a Sandona di Piave.